Tutto o quasi come previsto dall'Assemblea di Lega Pro, chiamata a decidere sull'esito dei campionati di Serie C 2019-2020. I tornei sono formalmente chiusi, con la promozione delle rispettive tre capoliste di ogni girone, Monza, Vicenza e Regina, e con l'Assemblea che si è espressa anche sulla spinosa questione della quarta classificata. I club di Serie C hanno deciso che, per la promozione nella serie cadetta del quarto club, verrà proposto al Consiglio federale la scelta tramite merito sportivo con 23 voti favorevoli. Sconfitta la tesi di giocare i play-off con i protocolli a 16 voti. Tale scelta è legata a quella di bloccare i campionati. I restanti fuono risultati astenuti. Grande favorito adesso è il Carpi, che vanta la miglior media punti tra i tre raggruppamenti, superando per appena un millesimo la Reggiana. Ricapitolando, la Lega Pro proporrà in FIGC di bloccare definitivamente il campionato, promuovere in Serie B le tre capoliste, scegliere la quarta tramite merito sportivo, bloccare le retrocessioni in Serie D e bloccare anche i ripescaggi dalla D, ma non ovviamente le nove promozioni. Il Gubbio dunque vedrebbe chiuso il torneo con la salvezza anticipata, essendo peraltro fuori dai play-out al momento della sospensione del campionato. Peraltro la situazione che si va a delineare è quella auspicata dalla società di Via Parruccini, che ha votato per lo stop al campionato, per la promozione diretta delle squadre in testa alle classifiche dei tre gironi, per il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi e per applicare il metodo del merito sportivo per la quarta promozione. Riteniamo sia impossibile proseguire la stagione, dichiara tramite nota focetaria il presidente rosso-blu, Sauronotari, e non potendo giocare le gare di campionato, riteniamo sia altresì impossibile poter disputare play-off ed eventualmente play-out, perché in circostanze come questa attuale, non si possono anteporre interessi personali di classifica con la falute delle persone. Auspico, pertanto, che il Consiglio federale, che dovrà pronunciarsi prossimamente, dichiara sempre notari, tenga in considerazione le proposte avanzate dall'Assemblea delle società di Lega Pro. Diversi, invece, lo stato d'animo della Ternana, che sposti il focus sulla metodologia scelta per la quarta squadra da promuovere in B, annunciando anche possibili ricorsi. 13 squadre di Lega Pro, Ternana incluso ovviamente, vogliono che il play-off vengano disputati, ha dichiarato il vicepresidente delle Fere, Paolo Tagliavento, e le 23 squadre che hanno invece proposto che a falire in B debba essere per meriti sportivi il Carpi, non raggiungono la maggioranza assoluta, maggioranza invece ottenuta da tutte le altre proposte. L'ex arbitro internazionale ricorda anche che il tutto dovrà essere esaminato dal Consiglio federale, che secondo Tagliavento, prenderà atto che 16 squadre favorevoli e 17 astenute rappresenti in un dato che la federazione stessa saprà tenere nella giusta considerazione. Pertanto qualsiasi altra decisione assunta vedrebbe costretta la società rosso-verde ad agire per vie legali, tutto nelle mani della Federcalcio dunque, che dovrà decretare i verdetti di un campionato che rimarrà a suo modo storico per la terza serie nazionale.